Season 5, 5 come gli anelli, 5 come le gemme dell'infinito, 5 come le rotture di palle che ci dovremmo subire perché prima settimana della season 5 dobbiamo fare line up con overall totale di line up, non dei giocatori me l'avete spiegato voi, vi ringrazio, 84 di overall appunto o meno no free agent, no bronzi, no argenti adesso faremo come si suol dire un esperimento perché mi state dicendo dalla chat che se io metto una full opale mi fa giocare lo stesso e allora io ti dico sfudera, sfudera questa full opale con gli check so che no tu morata, so che non lo dovrei fare però voglio vedere se avete ragione spero di no e questo povero ci ha fatto JR, Kirilenko, Jamorant e tutto, io mi presento qua con la full opale però mi sento un po' un pezzo di merda ve lo dico eh se sono solo io mi sa di pussi un po' eh però le bro è divertente però le bro pare divertente però le bro pare divertente nel senso eh ti trovi contro i squadroni e tu sei con i minion tipo questo, povero vabbè vabbè stoppami tutti i tiri allora è one baby, è one baby perché mi caso che gioco con gli opale però le bro è proprio bello da usare, madonna santa è proprio divertente cazzo ciao io io, ciao ciccio no, non lo voglio, non lo voglio, non me lo merito non lo voglio l'opale, non darmelo no, 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 faccio l'uomo no, 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 faccio l'uomo quando schippai l'anello perché sono uomo vero uomo vero uomo vero uomo vero schippato l'anello apposta Grazie, 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 grazie Piano, 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 un autografo alla volta Piano, piano, piano Piano, uno alla volta, uno alla volta l'anello Adesso questa manovra ci costò 5 anni di partite Domenica alle 4 di mattina ancora in stream così Sul 37.5 A non trovare l'anello Proviamo a giocare con questa squadretta qua Dai, facciamo i seri Sporiamo giusto a 85 di overall perché di sì No, ok Però Gerald Wallace col dynamic duo Ah però Ah però Gerald Wallace col dynamic duo con Jason Richardson Eh però Gerald Wallace guarda che lo Mezzo mezzo lo tiene Guarda che Gerald Wallace in realtà Mezzo mezzo lo tiene l'Evron, eh L'avete visto? L'avete visto? Oh JR, finalmente Finalmente, JR Dai, su, finalmente Due tower d'oro, eh Due tower d'oro Due tower d'oro, ecco Il suo palo è sbagliato Play up dell'altra parte Che videogame Ragazzi Che videogame Che videogame Che videogame E se c'è uno che può segnare questo tiro Se c'è uno che può segnare questo tiro Eh amico mio Inutile che metti in pausa JR Smith diamante Eh cioè Anch'io mi starei incazzando però JR Smith diamante Eh te lo tieni Bello che Fai passa dentro la schiena A caso Lebron Come Earl Ogni tanto spara Passa dentro la schiena Lì 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 Michael Porter Jr Let's go Nice No Si L'ha fatta L'ha fatta The dagger Back to back Cannellino al centro Lo tengo il contratto diamante Lo tengo Lo tengo Lo tengo Non era una trappola Che prova di Che prova Che prova questa sera Contratto diamante Tiello lì Assolutamente Si Per l'amor di dio Tiello lì Mettiamo il dynamic duo Quello secondo me Veramente sgravato Isaac Lebron Si Va beh Isaac Bamba Kevin Love Sean Marion Eiton Cazzo Di squadra Così è Dizinger quello Oppela Mamma mia Jonathan Isaac Era Indecente Rubino Io ho veramente Paura Di cosa possa fare Da versione Ammettista Oh Un bel verde Con lebron Finalmente Bene Non comprendo Con tale domanda Scusami Non la comprendo Vai vai Ciccio Vai Destra Ho visto due Destra Per cominciare Insomma Eh sì Questo c'è la full squadra Ai 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 Kairi Giannis Lebromo Pale Credo sia Margazol E Westbrook Se non ho visto male Ah Ah Ok Allora qua Io dovrei cercare Di marcare Westbrook Ed evitare Che vada in penetrazione Solo che Vediamo Perché Eh Porca troia Godo Godo Ah vado di qua Eh vabbè Vado di qua Allora Che cazzo Ti voglio dire Se mi vuoi far andare Di qua Vado di qua Hey man Stop using Zen Please Stop using Zen Man Come on Come on It's not funny Aiuto Sono morti i giocatori Aiuto Bravo Sono risvegliati subito Con Mobaba Per J.A. Smith Da solo Non può sbagliare Di fatto non la sbaglia Rimaniamo lì Rimaniamo lì Rimaniamo lì Mettili a difesa A zona matta Ha cominciato a sbagliare I tidi Quando gli ho detto qualcosa Eh By the way Sì Sì Fuori Ref Ref Come on Ref Come on Ref Era fuori Quello Ha cominciato a sbagliare I tidi Da quando gli ho parlato Al microfono No lui Va bene Va bene Let's go Let's go Più due All'intervallo Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Ma perché no Ma perché no Ma perché no Mobamba Con l'impeto Con il tuo dynamic duo Ma perché no Smush 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 Vai a usare il controllo Il campione Let's go Vai vai ciccio Vai Albi e Matteo Dicono sinistra Sì Direi O a O a tutta la panchina Ma non credo che comunque sia 84 Vabbè Poteva andare pure peggio Va Niente Pick and roll Sai cosa Mi metto a zona Sono già roti i coglioni Questo errore qui Oppela Oh Ha smesso di lagare Questo è il campione internazionale Quasi intercontinentale Ma anch'io Sono campione Collegiale Di passaggi Intercettati Oh Come le finance del 2013 Bravo Lebron Verde sul secondo tiro Twitch che Ci regala sempre delle nuove gioie Come Jonathan Isaac Che era sbroccato da Rubino Lo è ancora di più da ametista Oh Ma che rimessina Oh Tu È a posto Lebron Lebron Si oscura la vallata Si oscura la vallata Lebron James Dall'altra parte Per J.R. Smith Con l'appoggio Si oscura la vallata Ma Adesso 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 Eccolo qua Lebron James 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 Perché c'è questa possibilità che sia garantito Effettivamente ma non lo so Visto che mi avete detto che lo dovrebbero dare Dopo il Limited Facciamoci l'applauso che abbiamo preso Regolarmente